eccoci qui appena finita la prima giornata cioè appena finita la prima giornata appena finita la partita della prima giornata della roma che 0 a 0 purtroppo come prevedevo era una partita tutt'altro che facile anzi infatti si è dimostrata tutt'altro che facile preso due traverse il verona una noi altri il festival delle traverse direi è stata una gran partita giocata da ambo le parti però se vede che manca lo stoccatore tu lì davanti qui si parla di gioco alla juve però qui tocca smoveste secondo me perché adesso la prossima c'è proprio la juventus e me viene da ridere se non da piangere onestamente però nemmo giocato male per quanto visto anzi però se vede che manca ancora qualcosa sul calciomercato perché manca del cinismo lo stesso michi italiana ci ha avuto qualche occasione lo stesso pedro però tra le davanti non siamo cinici per niente migliori in campo sicuramente michi no aspetta che cazzo sta a dire spinazzola ha fatto davvero un'ottima preda tra l'altro ha preso una traversa con un tiro spettacolare e purtroppo però sempre le traverse quindi cominciamo il festival delle traverse ogni anno noi altri siamo ampiamente abituati purtroppo a questo tipo di cose verona che secondo me si trova qualche attaccante un po' meglio di carmine che si è magnato letteralmente una marea de gol poi le fa addirittura meglio dell'anno scorso questo vedremo in seguito verona ha giocato davvero benissimo e ci ha creato non pochi problemi c'è quel tamese mi pare si chiamava non so se ho detto bene comunque ha fatto davvero un'ottima partita e stesso black quello mi piace davvero parecchio quel giocatore hanno ancora anno scorso a leccia era piaciuto stanno se riconfermato secondo me mentre di carmine secondo me insufficiente ampiamente davvero un disastro come attaccanti va bene dove invece spinazzola migliori in campo poi anche ci metto anche pedro forse michi si ha avuto qualche occasione ma però pecca di cinismo onestamente altro migliore milante che ha fatto davvero una parata nel primo tempo se non sbaglio sarebbe su tamese cacchio si è chiamato lì ha fatto davvero un miracolo mamma mia altro che paolo oprez onestamente però come detto prima in questa partita c'è mancato la stoccata vincente si vede la mancanza nei attaccanti e se secondo me non solo un attaccante ma ce ne vogliono due perché ne che puoi giocare tutte le partite sempre con lo stesso non te regge è logica questa tra l'altro allo stadio c'erano i due presidenti presenti a distanza dei due seggiolini quindi questa cosa già mi fa bene sperare finalmente una società presenti che vi guarda le partite soprattutto se interessa di tutto e tutto quanto l'ambito roma e non solo il merchandising del cazzo porca troia e sono contento di questa cosa non sono contento di questo pareggio perché onestamente pensavo le parti meglio anche se il verona questi pareggi mi ricordo anche non a uno mi pare c'è segno jankovic insegnava mai segna soltano gli altri onestamente va bene l'ex j no però purtroppo c'è manca sto cacchio l'attaccante se sbrigassero se ha da venivi l'iccato lì se se palla de milic ma tanto a contatta con dell'aurentis è sempre interno all'otto quindi ne che c'è spero tantissimo va beh speriamo bene sennò male che va ce teniamo ed in via magari affiancato da qualche altro attaccante giovani perché secondo me un attaccante solo non basta che le partite sono tantissime tutte attaccate quindi ci vorranno secondo me anche a un altro attaccante all'infuori de geco o di chi vorrà essere sostituito insomma niente diciamo che se potrà fa meglio il verona secondo me ha fatto qualcosetta in più però alla fine diciamo che il pareggio è giusto perché verona ha giocato davvero un'ottima partita tra i migliori anche pellegrini tra i peggiori cristante che da me proprio non mi piace 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 per niente onestamente e niente mi pare corretto tutto quindi purtroppo se riapre il campionato con un pareggio che lascia il tempo che trova però è sempre merito e niente fiorentina oggi ha vinto 1 a 0 con il gol di castrovilli bel gol bel giocatore anche quello e adesso vediamo domani le altre cosa faranno ma ancora siamo alle prime come detto prima le prime giornate sono sempre interno all'otto perché la condizione fisica può essere male come poi deve essere bene quindi non si sa mai che i risultati possono scappar fuori diciamo alla fine il pareggio è sempre meglio niente ma però adesso c'è la juventus ci sarà un calendario da l'inferno stessa cosa al gubbio tra l'altro ma ne parlerò in un altro video magari e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza roma